Ed eccoci qui all'ultimo giorno di Black Friday, prima del vero e proprio Black Friday. Allora, sono andato a dare un'occhiata su Amazon e ho visto che sostanzialmente i giochi si sono un po' fermati, ovvero non vi sono delle grandi offerte perché probabilmente queste grandi offerte ci saranno tutte domani. E quindi cosa ho fatto? Ho creato sì una lista sulla mia vetrina virtuale, che vi ricordo, Amazon.it slash shop slash AlexSmart, comprate da questa vetrina, per voi nessun costo in più, per me è una piccola commissione. Ma come ho creato questa volta questa vetrina? Vi ho messo qua tutti gli smartwatch che secondo me sono i migliori rispetto a quelli che ho provato in questo 2019 e che sono da tenere d'occhio. E quindi andiamoli a vedere. Iniziamo con un prodotto Garmin. In genere i prodotti Garmin sono per tutti quelli che chiamano lo sport, soprattutto lo sport all'aperto. Qui ho messo il 4Runner 645 Music che avevo già recensito. Oggi ha un prezzo di 345 euro, secondo me se l'ho trovata ad un prezzo intorno ai 270 barra 280 euro potrebbe essere un buon acquisto. Ho poi messo tutta la serie Amazfit e sono veramente tanti. Iniziamo dal Verge che oggi è prezzato a 98 euro, è già un ottimo prezzo secondo me, soprattutto perché si porta presso GPS e GLONASS e soprattutto si porta Alexa, l'assistente vocale di casa Amazon. Ad oggi è 98 euro che secondo me, ripeto, è un ottimo prezzo, ma se lo trovate a 70-80 euro domani Black Friday è assolutamente un best buy. Da questo punto di vista diventa un po' meno attrattivo il Verge Lite che in questo momento trovate a 89 euro. Naturalmente con una differenza di prezzo così esigua andate direttamente sul Verge. Andiamo oltre, sempre per l'offerta Amazfit, trovate anche il BIP che è il best seller di casa Amazfit. Lo trovate ad 84 euro, ma vi direi domani di tenere d'occhio un altro smartwatch di casa Amazfit, in questo caso il GTS, che ora come ora è prezzato a 125 euro. È davvero un best seller questo GTS, nel senso che si trova poco. Io ho fatto la recensione qui e quindi se domani lo trovate intorno ai 90-95 euro, prendetelo ad occhi chiusi. Soprattutto perché è uno smartwatch che oltre ad assomigliare all'Apple Watch, ma questo potrebbe anche non essere una qualità, vedete voi, è uno smartwatch che vi offre veramente tanta tanta batteria, fino a due settimane. Andiamo avanti, ho parlato prima di Apple Watch. Allora, ad oggi l'Apple Watch 5 su Amazon viene prezzato. La versione GPS è 44 mm in alluminio a 439 euro, che è già un buon prezzo perché rispetto ai listini Apple è un prezzo inferiore di circa 50 euro. Tenetelo d'occhio, se lo trovate, sempre questa versione, intorno ai 400-390 euro, sicuramente compratelo. Anche se, sempre parlando di Apple Watch per quanto mi riguarda, l'Apple Watch migliore ad oggi come rapporto prezzo-prestazioni rimane l'Apple Watch 4, che è già stato messo nella settimana del Black Friday da Amazon, con prezzi che andavano dai 330 ai 360 euro, se non sbaglio. Per ora questa promozione non è più presente, ma vi dico, se domani la ritrovate e soprattutto se avete un iPhone e avete sempre pensato di farvi un Apple Watch, allora il 4 come rapporto qualità-prezzo rimane una delle scelte migliori. Se lo trovate, la versione 44 mm in alluminio, a circa 350-360 euro, allora fateci davvero un serio pensierino perché ne potrebbe valere la pena. E per chi ha telefoni Android, per chi ha telefoni Android c'è una vasta scelta. Iniziamo dall'ultimo nato di casa Samsung, sto parlando dell'Active 2. Active 2 che ad oggi trovate sul marketplace di Amazon a circa 289-290 euro. Sto parlando della versione che qui vedete a 285, della versione quindi in alluminio più grande, con la cassa da 44 mm, è già un buon prezzo secondo me, ma se domani lo trovate scontato di 30-40 euro, molto difficile che venga scontato di più perché è un prodotto molto recente, allora compratelo, perché ad oggi secondo me Active 2 è davvero lo smartwatch migliore per quanto riguarda la piattaforma Android. Ottimo smartwatch però è anche il suo immediato predecessore, sto parlando infatti del Galaxy Watch che sicuramente è un po' più grosso, che in questo momento viene prezzato su Amazon a 235 euro per quanto riguarda la versione da 46 mm, mentre viene prezzato a 246 euro per la versione un po' più piccolina. Sono entrambi ottimi smartwatch, hanno ovviamente dimensioni diverse, ma soprattutto con l'aggiornamento a Bixby che hanno ricevuto anche questi recentemente, sono davvero degli ottimi compagni di viaggio per chi ha un telefono Android. E quindi? E quindi se domani li vedete intorno ai 200-190 euro potrebbe davvero valere la pena comprarli. Ma andiamo avanti, Huawei Watch GT l'ho recensito da poco, oggi lo trovate a 222 euro, cosa vi offre? Vi offre tanta tanta batteria fino a due settimane, vi offre un'ottima implementazione della parte sportiva, un po' meno per quanto riguarda le notifiche, nel senso che le ricevete ma non potete rispondere. Molto elegante, ottimi materiali, come vedete lo trovate a 222 euro, se domani lo trovate intorno ai 180 euro, sicuramente è uno smartwatch da prendere in considerazione. E andiamo avanti con le ultime offerte, parlo di Amazfit GTR, anche in questo caso uno smartwatch con un'ottima qualità costruttiva, ad oggi lo trovate a 119 euro, che è già un gran prezzo. Se domani per caso lo vedete sotto i 100 euro, allora compratelo, perché è veramente un grande smartwatch, così come mi è piaciuto molto il Versa 2 di Fitbit, mi è piaciuto molto perché integra tante qualità interessanti, a partire dall'assistente vocale Alexa integrato, dall'Holizon Display e da una più che discreta durata della batteria, fino a una settimana. In questo momento costa 180 euro, è già sceso, quando l'ho comprato io era intorno ai 199 euro, Amazon ha messo in promozione il Versa Lite, che offre però tante caratteristiche e meno, quindi se domani lo trovate intorno ai 150 barra 160 euro, per chi ha uno smartphone Android, potrebbe davvero essere un ottimo acquisto. Solamente attenzione a chi vuole fare sport all'aperto, perché questo Versa 2, l'unico difetto che ha secondo me, è che non ha il GPS integrato. E quindi è tutto per questo settimo giorno di Black Friday, un Black Friday un po' diverso, consigli per gli acquisti, domani mattina io metterò online il video, nel senso che mi sveglierò molto presto, per darvi l'opportunità di vedere quali sono gli smartwatch, con i maggiori sconti, vi ricordo ancora una volta, date un'occhiata alla mia vetrina virtuale, amazon.it slash shop slash Alex Smart, e quindi ci vediamo domani mattina, quando vi sveglierete, riceverete una notifica sul Black Friday, finalmente è il caso di dirlo, vero e proprio. Ciao a tutti!